Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questo video lo dedichiamo al mondo Internet e torniamo a parlare di Skype. Voglio mostrarti una novità, quella che è per me una novità in questi giorni, molto annunciata nel mondo Skype e finalmente è arrivata e da vedere veramente stupefacente. Per fare questo dobbiamo andare in Skype e fare una telefonata. Quindi ho necessità di spegnere la mia webcam, quindi non mi vedrai più in questo riquadro perché dovrà essere utilizzata da Skype. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci, siamo pronti per proseguire nel video. Dicevamo quindi che parliamo di Skype. Vado quindi ad aprire il mio programma con un doppio clic sulla S di Skype. Dovrò autenticarmi, quindi fornire le mie credenziali. Già associazione Maggiolina è già inserito. Vado a mettere la password. Accedo. E a questo punto Skype mi autenticherà. Ecco che sono entrato nel mondo Skype. Bene. Per mostrarti questa novità, innanzitutto dobbiamo essere sicuri di avere l'ultima versione del programma, quindi la versione aggiornata. Se è un po' che non utilizziamo Skype, sarà bene verificare se questa versione è aggiornata. E lo facciamo andando su Aiuto, qui in alto, Aiuto, Controlla aggiornamenti. Quindi vado a premere Controlla aggiornamenti. E qui mi dice, è disponibile una nuova versione di Skype. Aggiorna subito per utilizzare le nuove funzioni di miglioramenti. Bene. Aggiorno. Quindi dico scarica. Il mio computer lavorerà qualche minuto al fine di scaricare questo aggiornamento. e successivamente, una volta scaricato, avrò bisogno di installarlo. Ora gli diamo i secondi necessari per lo scaricamento e poi vedremo che cosa possiamo fare. L'aggiornamento è arrivato e il computer mi chiede se lo voglio applicare, quindi se voglio aggiornare ora oppure non ora. Dico aggiornamento. Skype mi chiede l'autorizzazione, o meglio, il computer mi chiede l'autorizzazione a utilizzare questo aggiornamento. Dico di sì. E adesso lavorerà ancora qualche minuto per darmi l'ultima versione di Skype. Qui mi chiede come un'installazione, quindi dico confermo. Tolgo installa click to call, perché non lo voglio attivare. Dico che non voglio impostare Bing come il mio motore di ricerca, non voglio impostare MSN come mia home page. Continuo. E adesso, nuovamente, ci sarà da attendere affinché l'installazione abbia termine. Qui mi viene chiesto di chiudere l'applicazione, visto che Skype lo stavo utilizzando, mi viene chiesto se voglio chiuderlo. Certo, dico ok, gestisco in automatico la cosa per cui sarà il mio computer a chiuderlo e poi successivamente a riaprirlo quando ce ne sarà bisogno. Ecco che il computer ha chiuso Skype. Proviamo a attendere qualche minuto per vedere se me lo riapre. Eccolo qua che me lo ha riaperto. E adesso questa è la versione aggiornata di Skype. Quindi l'ultima versione ad oggi, 22 marzo 2016. Bene, la funzione che volevo mostrarti era questa. Vado a selezionare una persona a cui voglio telefonare. Telefono al mio amico Gatto Prezioso. Quindi ho nei contatti Gatto Prezioso. E adesso sto per telefonargli. Normalmente premerei questa icona per dire video chiama. Ma prima voglio scoprire la funzionalità di questo mondo. Se ci vado sopra con il mouse, mi dice Skype Translator. Lo premo. E qui mi dice Anteprima Traduttore. In pratica questo sarà un traduttore in tempo reale di chiamata, di voce. Quindi io vado ad accendere il mio traduttore. Quindi è stato acceso. Decido le lingue dei due interlocutori. Io parlerò italiano. Gatto Prezioso parlerà in inglese. Perché ho un mio amico inglese. Quindi vado a scegliere la lingua inglese per il mio amico. E a questo punto, in teoria, mentre noi parliamo, io in italiano e Gatto Prezioso in inglese, ci sarà qualcuno che traduce la conversazione e quindi mi darà la possibilità di sentirla in italiano. Allora, spengo, più che spengo, chiudo la finestra del translator. Mi accorgo che il translator è acceso perché ora è colorato, mentre prima quando era spento era sbiadito, era in grigio. E attivo la telefonata. Vado e dico video chiama. Ora devo solo attendere, eccomi qua che sono tornato perché sono in videochiamata, devo solo attendere che Gatto Prezioso risponda. Oh, perdonami. Suonano alla porta. Allora, torno subito. Se risponde, salutamelo tu intanto. Ciao Daniele, come stai? Ciao Daniele, come stai? Peccant, sì, vicino dove sei. Posso vedere, lei. Ok, si aiuto puro, vai. Ok, ci vediamo domani, ciao. Si vede che non ha risposto. Proviamo a chiamarlo nuovamente Gatto Prezioso e questa volta vediamo se risponde magari l'amico spagnolo. Quindi sono andato sul translator e scelgo anziché inglese. Vediamo se c'è lo spagnolo tra le lingue disponibili. Spagnolo. Perfetto. Faccio nuovamente la chiamata. Eccomi. Sempre alla porta suonano quando sono al telefono. Scusami, perdonami un attimo. Ciao Daniele, come stai? Ciao Daniele, come stai? Navigare con internet me gusta mucho. Navigare in internet mi piace molto. Ciao. Ciao. Ho riattivato la webcam perché ora con Skype non mi servirà più. Mi auguro che il video ti sia piaciuto. Eventualmente metti un mi piace. Condividi. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. E mi raccomando, invia un commento. Ci vediamo presto con un nuovo video dell'Associazione Culturale Maggiolina. Ciao, buona giornata. Grazie.